Ci sono quattro cose che noi sappiamo dello storytelling. Ce ne sono molte, ma insomma, queste quattro proprio le conosciamo bene e lo scopo di questa lezione è far sì che dopo questa lezione anche voi le sappiate come le sappiamo noi in questa scuola dove registro. Quindi quattro cose, e per ciascuna di loro un piccolo capitoletto, quattro cose da sapere e da portare a casa.